Dotato di un bel fisico atletico ed un volto virile dai tratti accattivanti, venne scoperto da Roberto Rossellini mentre svolgeva la sua attività di pescatore nei pressi della sua città natale, Salerno. Rossellini lo volle appunto per il ruolo del pescatore a fianco di Ingrid Bergine nel film, Stromboli nel 1950 quando decise di affidare il ruolo del protagonista maschile del suo film ad un volto nuovo, a seguito dei giudizi positivi che gli pervennero da questa interpretazione. Vitale scelse di dedicarsi al cinema e recitò in rapida successione in diversi film dei quali il migliore di questi fu sicuramente Domenica di agosto di Luciano Emmer del 1949, dove interpretò Renato il re duce di guerra innamorato di Luciana, Elvi Lissiak, e dal carattere debole che stenta a reinserirsi divenendo preda della malavita. La critica gli rimproverò una certa fissità e freddezza interpretativa. Inoltre Vitale ebbe la necessità di venire sistematicamente doppiato in Domenica di agosto venne. Doppiato da Gualtiero De Angelis e di ruoli che fu costretto a sostenere in seguito non gli diedero le soddisfazioni che s'attendeva. Pertanto, dopo qualche anno dal suo esordio decise di ritirarsi definitivamente dalle scene. Grazie. Grazie.